Appuntamento a mercoledì. Nel giorno dello scadere dell'ultimatum di Franco Iachini sul fronte stadio arriva l'appendice di attesa per quanto concerne la trattativa 3 che riguarda l'imprenditore, il gestore dello stadio e il presidente Campitelli. Che però mercoledì non ci sarà all'incontro nello studio del legale Fabrizio Acronzio per provare a cercare un'intesa dopo la prima offerta, evidentemente a ribasso, è ritenuta incongrua da chi detiene ancora 17 anni di gestione dell'impianto. Dunque iniziano i tempi supplementari. Il tutto dato dopo un weekend di riflessione e con una scadenza, quella di oggi, che non poteva essere oggettivamente rispettata in quanto troppo unilaterale per poter essere accettata in prima battuta. Nel frattempo però i giorni passano e la data del 24 giugno, quella per presentare l'iscrizione al campionato di Serie C, si avvicina a rapidi passi. La strada è ancora lunga e il comune attende da arbitro imparziale di capire come si svilupperà la questione in senso generale considerando che, come ha ribadito anche il sindaco Gianguido d'Alberto qualche giorno fa, l'interesse è dare continuità e futuro alla realtà calcistica cittadina. Con Campitelli, che venerdì pomeriggio si è di fatto chiamato fuori, c'è attesa per vedere gli sviluppi tra Iachini e Cantagalli considerando che nel frattempo ci sarebbero anche dei lavori da far partire il prossimo 25 giugno per il rifacimento del manto erboso, contratto sottoscritto la scorsa settimana dal gestore con la ditta che procederà alla rimozione dell'attuale manto per sistemare quello nuovo. Tra qualche giorno, dunque, se tutto andrà come nei piani, il Bonolis subirà un profondo rinnovamento anche con l'installazione dei seggiolini nelle due tribune, così come richiesto dalla Lega Pro. A chi toccherà materialmente pagare i lavori lo si scoprirà presto. Rilevare la gestione pluriennale nello stadio e nell'interesse di Iachini e fino a qualche ora fa lo era solo a determinate condizioni. Posizione ammorbidita nel fine settimana attraverso una serie di chiamate che hanno riguardato tutti gli attori della vicenda per cercare di sedersi attorno a un tavolo per discutere. Cosa che poi è sempre stato l'auspicio generale prima della fondo di giovedì quando è arrivato il primo comunicato di Iachini rincarato dal successivo che ricostruiva i fatti. Nel mezzo la risposta del gestore che ha rimandato l'offerta al mittente e lo smarcamento di Campitelli sul fronte societario. Dunque, mercoledì giorno decisivo? Presto, troppo presto per dirlo. Certo che di tempo non ce n'è moltissimo, ma già l'incontro è un passo avanti se non altro dal punto di vista dei rapporti che si stavano facendo fin troppo tesi.